Francamente questa storia del garante di teuti di Sassar è tutta da capire. Questo signore che vedete su quella spiaggia, già pronto, con tutte le cose per meditare, penso che sia già in posizione meditativa, che c'ha lì davanti un mortaio. Insomma, comunque il signore qui è convinto che il Covid si possa abbattere con una vita sana, respirando, meditando. Ha fatto un video che è diventato virale sulla rete, ve lo faccio un attimo vedere e poi andiamo da lui anche perché è una spiaggia meravigliosa di Alghero. In effetti, insomma, mica male. Fatemi vedere il video prima un attimo, così capiamo che cosa ha fatto, ha detto soprattutto. Dicano come si combatte il virus, col Green Pass, oppure con questa cosa, con la respirazione. Allora, non so se già mi sente il nostro Antonello Unida, ha 59 anni, se ho capito bene, è in tasca una laurea in scienze e tecnologia psicologica, fa il bancario, ma da due anni ha un ruolo molto importante e garante dei detenuti, dei sassari. Però non entra in carcere, pensate un po' dal 14 ottobre, perché non ha il Green Pass, non è vaccinato e non vuol farsi i tamponi a spese tue. È collegato ad Alghero su una bellissima spiaggia che si chiama la spiaggia delle Bombarde. Meravigliosa. C'è Ficceremica qua che adora la Sardegna ed è molto invidioso, caro Antonello Unida. Come sta? Beh, sto benissimo. Quando sto a contatto con la natura, insomma, si sta solo bene. Buona giornata a tutti. Sapeste quanto sono d'accordo con lei? Amerei passare la vita al mare, però vengo a lavorare tutte le mattine e venendo a lavorare mostro il mio Green Pass. Allora mi chiedevo a lei come fa, perché non andare ai detenuti è una cosa molto grave non tanto per lei ma per i detenuti, perché io penso che abbiamo un gran bisogno di un confronto e anche di avere qualcuno che si prenda cura dei loro diritti. E poi c'è anche il tema della banca, ma andiamoci con calma. Lei davvero pensa che piuttosto di vaccinarsi basta fare una vita sana come fa lei per non prendersi il Covid? Allora, in attività vi ringrazio per questa opportunità che mi si sta dando per chiarire alcuni miei concetti fondamentali. Io credo nella scienza, credo nei vaccini e insomma, che dire, oltre dire che ci si deve vaccinare, io ritengo dopo circa un anno e mezzo che bisognerebbe lanciare qualche altro messaggio. Come dire, anche questo, perché no... No, no, ma sull'oltre sono d'accordo pure io, Antonello. L'importante è oltre, bisogna vaccinarsi e poi bisogna fare anche una vita sana. In dubbio, in dubbio. È vero è che bisogna vaccinarsi, io insomma qua ho qualche perplessità. Perché dico questo? Perché il vaccino ad oggi non è obbligatorio. E quindi io ne prendo atto. Vero è che per entrare, come dicevate prima, per entrare dentro la struttura penitenziaria bisogna avere il Green Pass e quindi automaticamente con i tamponi, ebbene io svolgo da due anni il ruolo di garante e sono un bancario, come giustamente avete rimarcato, e non un banchiere. Io ho diritto, io ho diritto presso il mio seduto bancario a permessi amministrativi non retribuiti, quindi io ad oggi in silenzio, come dire, ho tolto, ho fatto togliere dalla mia busta, paga circa mille euro al mese. Adesso si aggiungerebbero appunto questi 250, eh certo, capisce? Cioè io svolgo, certo, e riconosco anche chi mi ha preceduto. Ma mi dica una cosa, ma lei perché l'ha fatto il Garante, è un compito volontario anche un po' neroso, perché l'ha fatto il Garante dei Nudi? Eh, grazie, grazie. Signora, io vengo, io sono cresciuto nel volontariato, io ho frequentato uno straordinario sacerdote, Monsignor Giovanni Masia, consigliere spirituale di due presidenti della Repubblica, famosissimo, e quindi è innato, è insito in me il fare volontariato. Allora, scusi Antonello, ma è insito in lei, non c'è un senso di colpa molto grande per aver abbandonato quei detenuti? Assolutamente sì. Ma non sicuramente dovrebbe vaccinarsi come tutti noi, scusi, no, no, per il semplice fatto che se lei si va a guardare i dati, i vaccini aiutano tanto. Non mi sono spiegato male, evidentemente è colpa di me che non mi sono spiegato bene. Io riconosco il vaccino, lo Stato mi dice che non è obbligatorio, nel momento stesso in cui vado a vaccinarmi devo firmare una liberatoria dove esula la responsabilità di chi mi sta mettendo il vaccino in corpo e allora qua ho due neuroni che cerco di far ragionare e di dire, va bene, io chiedo umilmente che mi si venga in aiuto e questo è stato recepito è una notizia fresca, alcuni miei amici imprenditori, io infatti entrerò in struttura giovedì, venerdì prossimo, e che degli amici imprenditori, esatto, esatto, esatto.